Suggerimenti professionali per prevenire l'aria secca nella vostra abitazione. Gli occhi, la pelle e il sistema immunitario soffrono per un clima ambientale troppo secco. Un paio di semplici suggerimenti possono porvi rimedio. Non riscaldate eccessivamente gli ambienti. La temperatura ambiente ottimale per lavorare e abitare di giorno è compresa tra 20 e 22 gradi Celsius. L'aria calda può assorbire più umidità di quella fresca. Se aumenta la temperatura nell'ambiente interno, si riducono l'umidità relativa e l'aria diventa secca. Un modo semplice per prevenire l'aria secca è una ciotola aperta con acqua. Anche asciugare il bucato nel soggiorno inumidisce sensibilmente l'aria. Un aiuto contro l'aria secca è fornito anche dalle piante da appartamento che filtrano le sostanze inquinanti dall'aria ambiente, aumentano l'umidità nell'aria e riducono il rumore. Lasciate la porta aperta mentre vi fate la doccia. In questo modo il vapore acqueo può inumidire l'aria secca. Le persone o gli animali attivi nell'ambiente apportano un'umidità sufficiente anche nella stagione fredda. Se non disponete di un impianto di ventilazione comfort, non dovreste comunque rinunciare a una ventilazione corretta. Spalancate le finestre per breve tempo ma regolarmente. Un sistema di ventilazione comfort con scambiatore entalpico di Zender è tuttavia più comodo perché aiuta a ottimizzare il grado di umidità nell'ambiente, assicura aria fresca e pulita e consente di risparmiare energia. Spalancate le finestre per breve tempo ma regolarmente.